Una riflessione ci viene dal segretario della Willi, Geroacquisto, che traccia un quadro tra luce e ombre della stagione estiva a Grigentina. Un'estate per Geroacquisto tutto sommato positiva per la nostra città e per quel che riguarda le presenze dei turisti. Ma siamo ancora alle prese con una pandemia che non accenna ad arrestarsi. Da metà luglio a tutto il mese di agosto i posti letto sono risultati occupati. Sono comunque mancati turisti stranieri, visto che la Sicilia è stata posizionata in rosso dall'Unione Europea per l'alto indice dei contagi da Covid-19. Si tratta di quei turisti che hanno sempre smosso l'economia della città nei mesi estivi. Eppure gli esercizi commerciali hanno potuto così realizzare molti affari, ma questo non può bastare. Non è possibile, continuo acquisto, che una città che si definisce a vocazione turistica possa accontentarsi di operare nel migliore dei modi per 40 giorni all'anno. Il nostro clima, le nostre bellezze meritano di essere visitate almeno 10 mesi all'anno, ma senza un'adeguata programmazione sperare in bene una chimera. Inoltre ci sembra doveroso rimarcare, continuo acquisto della Will, che è aggrigento e impreparata dal punto di vista dell'ospitalità. Molte strade risultano essere purtroppo ancora sporche. Il centro storico in più punti è un ricettacolo. Rifiuti sparsi dovunque, che rendono l'aria alimentata dalle alte temperature irrespirabili. Non ci si può presentare con questa cartolina gli occhi dei turisti, perché questi, una volta rientrati nelle loro città, oltre a dire che la Valle dei Templi è un incanto, riportano pure che la città è sporca. Noi, come sindacato della Will, continuo aggero acquisto, siamo pronti a confrontarci con le istituzioni preposte, per cercare di trovare tutti assieme delle soluzioni che possono lanciare definitivamente aggrigento nel panorama mondiale del turismo. Chiediamo ai nostri politici, molto distratti purtroppo, di farsi sentire, di battere i pugni, soprattutto a Roma, per far sì che questa provincia venga rispettata. Essere stati tagliati fuori dal PRNE è vergognoso, perché ci sono obiettivi a cui non possiamo rinunciare, come rendere il nostro porto di Porto Empedocle un'infrastruttura croceristica, dare alla comunità agrigentina un aeroporto proprio. Non è possibile che i politici locali pensino solo ed esclusivamente ai propri interessi e ignorino l'interesse collettivo per cui sono stati eletti.